Le dimissioni di Draghi e le elezioni anticipate già fissate per il prossimo 25 settembre non avranno ripercussioni solo sulla politica e sui partiti. Lo stop anticipato del governo potrebbe farsi sentire in maniera pesante anche a livello locale. Allormai ex premier aveva scritto ad esempio anche il sindaco Lucio Greco che si era accodato a quei primi cittadini che avevano chiesto a Draghi di rimanere alla guida del paese. L'appello però è caduto nel vuoto, troppo forti i venti di tempesta che hanno travolto l'esecutivo e così con la crisi innestata dal Movimento 5 Stelle adesso all'amministrazione comunale vengono meno i riferimenti istituzionali che fino ad oggi avevano permesso di monitorare procedure cruciali per il rilancio economico. Il tavolo sulle royalties estrative al progetto Argo Cassiopea di Eni ad esempio probabilmente rimarrà a lettera morta con un governo regionale che si è presso a chiudere i battenti e quello nazionale che non c'è più. Il comune con la normativa vigente è del tutto tagliato fuori da uno dei progetti di riferimento per l'approvvigionamento energetico. Rimane da delineare anche tutto il capitolo della portualità con il passaggio all'autorità della Sicilia occidentale che ancora non è stato del tutto completato. Discorso analogo si può fare per i 30 milioni del programma di finanziamento Qualità dell'Abitare. I fondi sono stati riconosciuti al comune per due vasti progetti di riqualificazione urbana. Le attività propedeutiche sono partite ma che ne sarà delle anticipazioni del via libera definitivo che gli uffici del Ministero dello Sviluppo Economico avrebbero dovuto confermare in queste settimane? Difficile dirlo mentre l'amministrazione comunale attende riscontri anche per i fondi della seconda finestra di rigenerazione urbana che ricomprendono il secondo tratto del lungomare. Capitolo PNRR. Il sindaco greco e la sua giunta avevano avviato interlocuzioni con gli uffici ministeriali e con i riferimenti che hanno fatto fino ad oggi da tramite. Con le elezioni fissate a fine settembre a Roma le priorità saranno ben altre. La giunta in questi anni si è spesso interfacciata con l'ormai ex senatore grillino Pietro Lorefice che ha seguito costantemente tanti progetti. Anche questo dialogo dovrebbe saltare. Rimangono in sospeso maxi progetti come quello della tangenziale da 300 milioni di euro. Entro fine luglio si attendeva il bando per l'affidamento dei lavori. Anas dovrà dare comunicazione in tempi stretti per evitare che i fondi vadano perduti. La procedura era stata commissariata proprio dal governo. Per ora nulla da fare salvo sorprese anche per il contratto istituzionale di sviluppo atteso da almeno due anni. I ministri che si sono succeduti alla guida del di Castero del Sud, il dem Giuseppe Provenzano e la forzista Mara Carfagna avevano avuto interlocuzioni anche piuttosto ben avviate con l'amministrazione comunale. A Palazzo di Città è stata svolta tutta l'attività propedeutica che ora però potrebbe non servire più a nulla. Solo pochi giorni fa Lorefice aveva bacchettato il leghista Giancarlo Giorgetti alla guida del Ministero dello Sviluppo Economico per la mancata proroga dell'accordo di programma. Altro capitolo che adesso è congelato con 21 milioni di euro che non si capisce bene che fine faranno. Rimane in bilico anche la casella delle bonifiche dell'ex discariche industriali con 30 milioni complessivi ottenuti dall'amministrazione comunale ma con ITER che vanno a rilento in attesa di valutare quali saranno i prossimi scenari. Probabilmente l'amministrazione comunale dovrà fare a breve il punto della situazione per cercare di evitare che tanti capitoli fondamentali finiscano al macero.